C'è tanto entusiasmo visto, sia in te ma anche nei tuoi compagni, proprio c'è voglia di ritornare a giocare a pallone. Sì, sì, poi ragazzi nuovi, giovani, vogliosi, quindi come ogni anno si riparte al massimo. E' una società che ti fa lavorare bene, non ci sono pressioni. Qua è una famiglia, qua siamo all'accademia di una famiglia vera e propria, con gente che lavora tutti i giorni per andare al meglio sotto aspetto calcistico e non. Poi tu sei una persona molto aperta, quindi anche con i nuovi, con i vecchi riesci a unire il gruppo. Io sono un ragazzo che sotto l'aspetto del gruppo fa la sua forza, nel senso che do sempre una mano a compagni, rido, scherzo, quindi sono aperto al dialogo con i compagni. E nel campionato si ritorna a 16 squadre? Sì, sarà un bel campionato, ho visto le squadre, sono 6 squadre nuove e anche trasferte abbastanza distanti, quindi sarà un bel campionato sicuramente. C'è lì, c'è, come dire, non si fanno voli pindarci, però c'è un grande sogno nel cassetto. Noi abbiamo fatto una bella stagione l'anno scorso e siamo qua per riproporla. E magari migliorarla. Quello è il sogno, quello è il sogno. Beh, che lo coltiveremo insieme e quindi bisogna aspettare il fischio di inizio per cominciare a divertirci insieme. Sarà questo campo a parlare. Grazie. Grazie a voi.